in questo video tutorial sono salito di semitono in semitono dalla nota scritta sol 5 fino a raggiungere la nota scritta do 6 precisazione alle note scritte corrisponde un suono reale più basso di due semitoni quindi in realtà per quanto riguarda i suoni reali sono sono salito di semitono in semitono dal suono reale della nota fa 5 fino a raggiungere il suono reale della nota si bemolle 5 ho tra le mani un clarinetto in si bemolle diteggiatura tedesca sistema muller va bene la la diteggiatura è abbastanza differente da quella del clarinetto tradizionale sistema bohem va bene però diciamo con un po di esercizio con un po di applicazione si riesce a diciamo a capire da intuire provando e riprovando quali sono le differenze in particolare ecco ci tengo a precisare che l'ultima nota raggiunta cioè il do la nota scritta do do 6 è una nota acuta do 6 do di sesta ottava nota scritta in realtà ripeto suono reale si bemolle 5 a differenza del del clarinetto tradizionale sistema boom in questo caso con il clarinetto digitazione tedesca sistema muller la nota scritta do 6 non viene presa con con soltanto il pollice che va a chiudere il fuoco posteriore e ad aprire con la punta del pollice la leva del portavoce mentre tutte le altre chiavi e fuori vengono lasciati liberi ma in questo caso la differenza è che bisogna per prendere il do se bisogna andare a chiudere con il polpastrello oltre a tappare con con il pollice il fuoco posteriore e ad aprire la leva del portavoce bisogna con il polpastrello del dito medio della mano sinistra andare a tappare il secondo foro il secondo fuoco della del pezzo superiore in questo modo suoniamo la nota scritta do do 6 va bene naturalmente faccio con una volta una raccomandazione riguardante il fatto che per prendere queste note del registro medio alto va bene poi dopo al do sei dopo il do sei seguirai il registro alto e altissimo va bene e quindi questa raccomandazione che faccio adesso varrà ancora di più per il registro successivo comunque intanto lo faccio adesso per questo diciamo dove ci troviamo adesso va bene cioè bisogna stare molto attenti a attappare bene i fori e a muovere bene tutte le le chiavi e le leve altrimenti queste note non non escono grazie per l'attenzione e al prossimo video